buona giornata a tutti gli amici di fano tv oggi è sab è lunedì 5 dicembre 2022 iniziamo insieme una nuova settimana con la rassegna stampa leggiamo insieme i giornali con notizie di carattere locale il resto del carlino e il corriere adriatico prima però passiamo attraverso l'almanacco del giorno e vediamo qual è il santo che si festeggia oggi oggi si festeggia san saba archimandrita è uno dei più celibili patriarchi dell'ordine monastico della palestina disse nel quinto secolo fu abate e fu molto stimato dai suoi confratelli archimandrita vuol dire superiore di un monastero di rito greco ortodosso fu uno dei primi apostoli diciamo così propugnatori del mangelo appunto in tutte le zone della turchia della grecia della palestina del medio oriente questo è san saba archimandrita allora passiamo alle previsioni del tempo vediamo che su tutta la regione si estende oggi una nuvolosità irregolare con piogge e qualche rovescio nell'arco del giorno sulle province settentrionali insomma è coinvolta anche la provincia di pesaro più asciutto altrove i venti ispireranno sulle coste da una direzione debole di sud e sud est sull'interno invece da ovest le temperature sono in calo e si aggireranno tra i 10 e 17 gradi c'è stato un innalzamento della temperatura in quest'ultimo weekend e ancora oggi per fortuna non fa ancora molto molto freddo ed ora vediamo le notizie dei giornali a partire dal corriere adriatico vediamo come l'apertura è dedicata ad una notizia di cronaca preoccupante perché dopo quanto accaduto qualche giorno fa in via nolfi a fano in centro storico dove si è svolta una rissa tra due bande di extra comunitari si parla di egiziani e di albanesi e nonostante i provvedimenti che le forze dell'ordine l'amministrazione comunale hanno preso per cercare di ripristinare l'ordine pubblico ebbene l'altra notte si è verificato un altro fatto molto preoccupante un'altra notte di violenze nel centro accoltellamenti e sangue c'è veramente paura ora i residenti hanno paura e qualcuno ha avuto anche delle intimidazioni deve stare zitto non deve protestare perché altrimenti avrà delle conseguenze sono state trovate tracce ematiche e una maglietta imbrattata imbrattata di sangue e c'è una sostanza rossa che ora viene analizzata dagli inquirenti spunta anche un foglio di protesta dei residenti e vediamo qui le immagini che ritraggono appunto questi vari momenti qui vediamo le gocce di sangue sul porfido della pavimentazione stradale qui invece vediamo la maglietta sporca di sangue con il cartello affisso dai residenti e qua vediamo invece i segni di un bivacco in via della valle il tutto si è svolto tra via della valle via dei borgoggelli e via norfi dunque eccessi alcolici vandalismi violenze e sangue un'altra notte di scontri disordini e paura nel centro storico di fano il tutto è stato scoperto la mattina presto ieri domenica erano intorno alle 6 le prime persone che sono scese in strada hanno visto appunto questo spettacolo questo spettacolo particolarmente preoccupante ne è stata data notizia alla polizia locale sono intervenuti anche i carabinieri al momento non si sa l'esito di queste indagini tutto viene mantenuto nel più stretto riservo fatto a che bisogna correre veramente ai ripari per ripristinare la tranquillità di chi vuole dormire in pace di chi vuole vivere sereno il centro storico a fano vediamo un'altra notizia di cronaca ripara un termosifone investito dell'acqua calda è scattato un soccorso persona nella tarda mattinata di ieri in un'abitazione di via del ponte a fano e siete muto veramente che l'interessato abbia riportato una profonda ustione si è trattato di un capo famiglia che stava controllando l'impianto di riscaldamento quando a causa di malfunzionamento della valvola si è provocato una fuoriuscita di un forte getto d'acqua molto calda che lo ha investito l'uomo ha lamentato ovviamente il dolore sono sopraggiunti sul posto l'ambulanza del 118 i carabinieri e i vigili del fuoco l'uomo è stato poi ricoverato in ospedale giriamo pagina e vediamo un'altra notizia dove si evidenzia l'evento del giorno 8 i premiati di cuore comune il sindaco ecco i nostri cavalieri ieri si è svolta nel teatro della fortuna questa bellissima cerimonia che premia chi premia i volontari premia volontari speciali quelli che fanno il bene della città ma non si mettono in prima pagina non cercano la ribalta lo fanno punto e basta lo fanno per un senso di altruismo personale una bella una bella iniziativa questa che premia chi veramente fa del bene della città riconoscimenti sono stati dati a personaggi che operano in vari settori ieri c'era il sindaco c'erano tutti gli assessori i politici che hanno voluto premiare essere riconoscenti per quello che di bene fanno questi cittadini e la platea del teatro della fortuna teatro dove poi si è svolto uno spettacolo veramente piacevole allegro c'è stato il san costanzo show c'è stata una bella performance di Fabrizio Bartolucci poi con Masini Tommaso Masini un bravissimo chitarrista ebbene il tutto si è svolto con un piacevole pomeriggio ma chi sono chi sono questi premiati li vediamo qua sul resto del Carlino li evidenzia un articolo che ha scritto Tiziana Petrelli ebbene lo vediamo qui questa è una immagine fanno e sui tanti cuori comuni commozione per il volontario in coma ebbene sono stati Don Guido Spadoni di Un Mondo a Quadretti, Mirella Tamborini di Mille Voci Mara Maggini di Mondo Solidale, Luca Primavera del Fano Rugby e Pietro Guidi del Club Anziani Le Fontanelle e poi le due associazioni più meritorie del 2021 sono state riconosciute in Adamo che si occupa dell'assistenza domiciliare dei malati di tumore e Melampo che accudisce i cani e gatti abbandonati e poi è stato premiato anche una persona assente, una persona assente benemerita che opera nel campo della protezione civile a più di 80 anni pensate ed era ancora sulla breccia purtroppo nella giornata precedente è stato investito, è stato colto da un incidente stradale è stato protagonista di un incidente stradale ed è ricoverato in coma purtroppo al San Salvatore di Pesaro era Enrico Frattini, una figura molto nota della protezione civile per lui ha ritirato il premio il presidente della protezione civile Saverio Olivi Fano e i suoi tanti cuori comuni, commozione per il volontario in coma appunto Frattini Mantoni resta, lo dice il Corriere Adriatico, Mantoni resta a guidare i servizi finanziari Chi è Daniele Mantoni? Daniele Mantoni è quello che un tempo si chiamava ragioniere capo è quella che tiene le finanze del comune, che tiene i registri, insomma che si occupa dei bilanci della situazione finanziaria ed è una dirigente veramente molto competente e molto brava è stato dato un concorso e Daniele Mantoni è stata così, è giunta prima sotto ogni aspetto è stata la migliore sia nella prova scritta che nella prova orale la dirigente comunale vince il concorso stesso risultato per i suoi colleghi Ed ora passiamo a terre roveresche Ho visto cacciatori entrare nel parco urbano La Busca Segnalazioni sui social di un ecologista Si tratta della Busca di San Giorgio di Pesaro, il municipio di terre roveresche Ebbene Manuel Bacchiocchi, un ecologista, ha notato due cacciatori con cani entrare in questa riserva di caccia Nonostante si tratti appunto di una zona vincolata, lo vediamo qui in questo cartello Il parco urbano La Busca di San Giorgio di Pesaro è costituito da tre ettari di bosco Che cosa ha fatto? Intanto ha segnalato la notizia, il caso sui social E poi ovviamente si riserva di presentare denuncia se la cosa dovesse ripetersi La pagina di Senigallia invece è dedicata ad una presa di posizione di un esponente politico Si tratta di Campanile della lista Amo Senigallia Che afferma, che invoca il fermo dei lavori in via Pisacane Lo invoca nei confronti dell'amministrazione comunale In quanto se si fanno questi lavori si rischia la paralisi del traffico I lavori dovrebbero interessare il rifacimento della pavimentazione Ebbene Campanile di Amo Senigallia Fateli quando sarà aperto Ponte Garibaldi Il Comune procediamo per stralci Ovviamente quando sarà aperto Ponte Garibaldi ci sarà un'alternativa al traffico E questo non renderà impossibile l'accesso al centro storico Ed ora apriamo la pagina sulla pagina della Regione Perché c'è una notizia che interessa un problema importante Importante per tutta la Regione, importante soprattutto per la provincia di Pesaro Urbino Che è posta a confine con la Romagna E dove il prolungamento dei tempi d'attesa è una delle cause principali della mobilità passiva Le dieci mosse della Regione Per ridurre i tempi d'attesa Dal miglioramento del servizio del CUP all'accordo con i privati E' un po' la strategia messa insieme dall'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini Ha elaborato un decalogo Un decalogo che va dall'analisi della proprietà della domanda Al monitoraggio continuo di domanda e offerta Con studi ad hoc sui volumi di erogazione delle prestazioni Passando per il potenziamento del CUP Un ampliamento delle funzioni del call center E in particolare l'utente verrà indirizzato Versa l'offerta disponibile pubblica privata In ordine gerarchico nel distretto di residenza Questo è importante Non si andrà più molto molto lontano Oppure anche in altre province Per chiedere delle prestazioni Ma queste dovranno essere erogate nel distretto di appartenenza E questo è già un vantaggio ma deve essere messo alla prova Per produrre veramente i suoi effetti Vediamo la pagina di Pesaro Che è dedicata ovviamente allo scoppio della bomba Ci sono due pagine dedicate a questo evento Che ha coinvolto centinaia di persone residenti a case bruciate Questo era veramente un ordigno impressionante Guardate qui l'immagine È veramente una bomba enorme Una bomba carica di chili e chili di tritolo Sono tantissimi gli effetti Sono gravissimi gli effetti Che avrebbe potuto provocare se fosse scoppiata Fatta esplodere la bomba Una maxi operazione da film Conclusa in tempi record Tutto si è svolto in maniera esemplare In maniera regolare Grazie anche alla efficienza degli artificieri Disinnesco in 50 minuti A case bruciate si torna nelle abitazioni Prima del previsto La bomba è stata disinnescata Con successo Dalla squadra di 20 artificieri e ingegneri dell'esercito Pensate in soli 50 minuti Ebbene era un'operazione molto molto delicata Dalle 9 alle 9.50 Poi i militari l'hanno issata con la gru su un mezzo Per trasportarla nell'excava della pica di strada Stroppato Dove è stata fatta brillare alle 12.15 Ebbene un boato Un innalzamento di terra Una colonna di fumo Tritolo misti e fumo E così alle 10 Dopo neanche due ore di maxi evacuazione Di quasi mille residenti Le persone hanno potuto rientrare Nelle proprie abitazioni Ebbene l'allarme era stato Così fissato Dalle 6 del mattino Fino alle 15 del pomeriggio In realtà tutto si è risolto Molto molto prima E qua ancora altre immagini Qui vediamo tutto il sistema di sicurezza Che era stato approntato Nella buca dove è stata trovata la bomba E qui abbiamo la riunione operativa Di tutti coloro che ci sono occupati Della evacuazione del sistema di sicurezza Per fare brillare questo ordigno risalente Alla seconda guerra mondiale Vediamo anche una presa di posizione Del presidente dell'ordine dei medici Battistini All'annuale assemblea dell'ordine Nuovi ospedali senza i medici Saranno cattedrali nel deserto Un intervento in più Per ottenere un rafforzamento dell'organico Perché senza veramente medici Ma dico medici competenti La sanità non fa un gran servizio alla popolazione La stoccata del presidente dell'ordine Battistini E l'annuale assemblea risorse Fino adesso utilizzate male Spero che i futuri direttori dell'AST Che è l'azienda sanitaria territoriale Che sostituisce l'azienda ospedaliera Marche Nord Non siano politici Ma anche delle figure competenti Ha detto giustamente il presidente dell'ordine E poi qui vediamo che un consigliere Andrea Marchionni della Lega Si interessa ancora di quel laboratorio sperimentale Che dovrebbe sorgere a Torraccia Per quanto riguarda le attività Dell'istituto zoo profilattico sperimentale Ebbene qui c'era il timore Che si facessero degli esperimenti con dei virus E quindi c'è un certo appunto Timore da parte della popolazione Il direttore dell'istituto aveva negato questa possibilità Ma Andrea Marchionni vuole vederci ancora più chiaro Sulla questione e raccoglie i timori degli abitanti Che sono in agitazione Sfilano i 300 Babbi Natale E ora puntano al Guinness Lo fanno ad Apecchio Dove si è svolta una bella parata Di tanti Babbi Natale Sono tutti ragazzini Però vediamo come interpretano con partecipazione La loro performance All'insegna tutto della solidarietà Tutta a Apecchio Quasi Ieri ha indossato un cappello rosso E la barba di Babbo Natale Ed è scesa per le vie del borgo Per una domenica all'insegna di una parata Dei record e della solidarietà C'erano anche gruppi provenienti da fuori Rigorosamente outfit In tema anche per le vespe dell'omonimo club di Fano Che hanno aperto il corteo marciante e sfilante I soci del Vespa Club di Fano Che non mancano quando si tratta di appuntamenti Dedicati alla solidarietà Sono veramente dei bravi ragazzi A questo punto vediamo anche la pagina di Urmino Parliamo sempre di Natale Le stelle ducali illuminano il Natale Nella città ducale Sobrietà con un messaggio di pace L'augurio del sindaco Gambini alla folla Che ha riempito Piazza della Repubblica Per il rito dell'accensione dell'albero Ormai un po' tutte le città hanno questo rito Dell'accensione dell'albero di Natale È un momento di festa e di speranza Per un Natale più positivo Rispetto a tutti i guai e tutti i problemi Che ci sono stati e continuano purtroppo ad esserci Ed ora diamo un'occhiata anche al resto del Carlino Cominciando dalla sintesi della prima pagina Dove vediamo che per quanto riguarda Pesaro Si parla della bomba Missione disinnesco tutti a casa in tre ore L'ordigno di 500 chili Spostato dal campo E reso innocuo Evacuazione a case bruciate Andiamo a fare colazione Ebbene molti hanno preso con filosofia Il fatto di dover abbandonare la propria casa Per un certo periodo Chi è andato a fare lo shopping a Rossini Center Chi è andato magari a fare colazione in un bar Chi è andato a trovare dei parenti Insomma si è passate queste ore Con una certa tranquillità Mentre invece gli artificieri Facevano a dovere il loro lavoro Vediamo ancora altri Altri riferimenti richiamati in prima pagina A Fano I cuori di Fano Riconoscimento al volontario in coma E poi Vale al galà del motociclismo Ecco il premio alla carriera Vale Valentino Rossi è stato presente Al film awards di Rimini Mentre ad Ancona Si parla di candidature a sindaco Per le elezioni della prossima primavera Ci sono le elezioni amministrative in Ancona Voto Silvetti in pool Lega obiettivo unità Il presidente del parco Verso la candidatura a sindaco Centrodestra si presenta a compatto Accordo per coinvolgere anche le liste civiche E poi c'è un incidente di caccia Spara per errore al compagno di caccia C'è il sequestro del fucile E poi di una persona Che non ha dato più notizie di sé Da circa un mese Si tratta di un 44enne Sparito nel nulla Da oltre un mese L'appello della sorella Perché si faccia vivo Oppure si attivino le ricerche A Macerata si dà l'addio a Cervigni Il macchinista dello Sferisterio A Tolentino per la cronaca Un maxifurto all'Assam I ladri fanno razzia di furgoni e attrezzi A Civitanova invece sono rivolte I residenti contro l'antenna Assemblea con il sindaco Un'antenna che non si vorrebbe Che fosse posizionata In una determinata situazione Vediamo anche le notizie richiamate Ad Ascoli Fermo Super Enalotto Il colpo grosso di Montappone Ma Paperone ci ha scordati Il bottino non è poco 166 milioni di euro E poi il pasticcio in comune di Fermo Il bando è sbagliato Un concorso è da rifare Ancora risse Si parla di risse ancora Non solo Fano Ma anche a San Benedetto del Tronto Notte di follia Due ragazzi all'ospedale Ma non si sa che cosa hanno questi ragazzi Perché si confrontino così Con botte, pugni, calci Addirittura con armi da taglio È veramente una situazione Inconcepibile Ma andiamo avanti Concludiamo con una notizia di Ascoli Baby pompieri alla carica in piazza Santa Barbara è qui la festa Sì perché ieri era la festa di Santa Barbara La festa dei Vigili del Fuoco Ma anche di altre armi La si festeggia anche da parte Degli uomini della Capitaneria di Porto Vediamo anche qualche notizia di sport Perché il Fano ha ritrovato la vittoria Doppietta di Broso Fano ritrovato Montegiorgio Illusione Tech Rung Montegiorgio perde il confronto con il Fano Che gioca fuori casa Montegiorgio Uno Fano Due Locali subito in vantaggio Ovvero il Montegiorgio Con l'attaccante Poi Granata Pareggiano E ribaltano tutto In undici Contro dieci Ebbene Masticamaro Il Montegiorgio Che paga a care prezzo Dieci minuti di calo Di tensione Nella ripresa E cede fianco e partita Al Fano Che impone Interrompendo Veramente Una striscia Negativa Fano torna Alla vittoria E riprende Entusiasmo Ieri aveva dato la carica Anzi sabato Aveva dato la carica Ai suoi giocatori Anche il presidente Russo Vediamo anche Qualche notizia Per quanto riguarda La Visse Che invece È in grandi Ambash Si sta per cambiare L'allenatore Visse Brevi Balza In pull Per quanto riguarda La sostituzione Dell'attuale Lenatore Il tecnico Milanese Sembra favorito Sui vari Cornachini E Gautieri Ma bisogna Attendere Per la fumata Bianca Dopo l'esonero Di Sassarini Sassarini Che è l'attuale Allenatore Se sarà lo scatto Docesivo Lo si saprà Oggi Quindi domani Lo avremo Sui giornali È giorno Sulla carta Decisivo Per sciogliere Il nodo Dell'allenatore Perché nel casting Biancorosso Per la panchina Lasciata libera Dall'esonerato Sassarini Quello di Oscar Brevi È il profilo Più accreditato Dice così Appunto Il resto Del Carlino Vediamo anche Qualche altra Notizia Di sport Ancona Ora Tre sfide Per non sbagliare Dopo la vittoria Con l'Alessandria La Reggiana E il Gubbio Volano Per effetto Dei risultati Di ieri E fanno il vuoto In alto Frenano solo Il Siena E la Carrarese E l'Entella E l'Ancona Grazie ai tre punti Contro l'Alessandria Risale All'ottavo posto Beh Una posizione Abbastanza sicura Per quanto riguarda La Fermana Invece Vediamo qui In fondo pagina Serve un'altra mentalità Al di là Della sconfitta Non è piaciuto L'atteggiamento Contro la Capolista E c'è anche Un problema Appunto Di Di atteggiamento Non solo appunto Di tecnica Calcistica Da cambiare E vediamo Cosa ha fatto Anche la San Benedettese Che domina Ma perde E quindi Qui viene contestatissimo L'arbitro I rosso-blu Specano l'impossibile E vanno sotto Per un autogol Di Conson Nella ripresa Il direttore di gara Convalida Un gol Nonostante La bandierina Alzata Errori arbitrali Ne accadono Anche ai mondiali Che si stanno Svolgendo In Qatar San Benedettese 1 Mattese 2 E questo È il risultato E con questo risultato Noi terminiamo La nostra Rassegna stampa Dandovi appuntamento Per quelle notizie Di domani Alle 7 di domani Mattina E per le notizie Del giorno Alle ore 20.30 Nel Tg Di Occhio alla notizia Di Fano TV Appunto Per le notizie Del giorno Vi ringrazio Per l'ascolto A risentirci